Una nuova associazione a tutela degli avvocati, ma quanto è difficile oggi fare l'avvocato? Bene, bisogna dire che l'avvocatura attraverso un momento di grande rinnovamento, come dicevo poc'anzi all'introduzione in questo pomeriggio, l'avvocatura conosce ormai più una percentuale di iscritti giovanissimi in fra dieci anni, cioè la maggior parte degli iscritti ha da pochissimi anni che esercitano l'attività. È difficile fare oggi come oggi l'avvocato, non soltanto per la produzione legislativa che è da parte del Parlamento incessante, ma anche perché grosse riforme istituzionali sono arrivate ormai anche per gli avvocati, mi riferisco al processo civile telematico, mi riferisco ormai a quasi arrivo del processo penale telematico, ciò che ha importato ovviamente importa anche costi per gli avvocati. Anche l'accesso alla professione è diventata anch'essa difficile, ricordiamoci che sebbene sia stato abbassato al numero di 18 mesi il periodo di pratica forense, va detto che ora sarà obbligatorio per i praticanti partecipare attivamente, iscriversi a delle scuole di specializzazione per l'avvio alla carriera di professionale.